Ho scoperto tutto, appena è stato lanciato sul portale ed è stata una piacevole sorpresa. Ho conosciuto tutto grazie alle esperienze che ho fatto di tirocigno nella Biblioteca Solari. Sono arrivata a tutto perché stavo cercando nel sistema bibliotecario di Ateneo di capire se una risorsa di mio interesse fosse disponibile. La ricerca su tutto è molto pratica e veloce. La ricerca su tutto è stata friendly e piuttosto intuitiva. Sicuramente intuitiva. Io faccio ricerca in campo biomedico, per cui utilizzo per la ricerca di articoli scientifici o di libri scientifici dei database che sono di altissima qualità, come PubMed soprattutto. Però poi ho bisogno di avere accesso al singolo articolo e questo richiede che la nostra università o la nostra facoltà, ma in generale l'università, abbia un abbonamento alla risorsa online. Non sempre questo si può dedurre dall'accesso attraverso il database internazionale come PubMed. E allora a volte è necessario capire se la rivista o l'articolo sono disponibili e tutto ve la potrebbe permettere. All'interno di tutto non ho mai fatto una ricerca specifica, poiché stavo studiando diversi database, però sono venuta a conoscenza appunto di questo motore di ricerca e devo dire che sono rimasta molto soddisfatta. Lo strumento è intuitivo ed è di facile uso. Il problema è che è uno strumento che fa delle ricerche molto generiche, per cui nel nostro sistema di lavoro le eventuali parole chiave, titoli di riviste, titoli di articolo, sono estremamente generali e non possono essere ricercate traverso tutto. Se io metto la parola oncologi o cancer, il sistema mi propone una quantità smisurata di informazioni. Motivo per cui ho trovato invece di grandissima utilità la chat, che mi ha aiutato a rifinire la ricerca, cosa che tutto così come era non mi sembrava mi fornisse. Ho utilizzato il servizio di chat nei primi collegamenti e l'ho trovato utile per raffinare la ricerca. Grazie a tutti. Non dovevi guardare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.